Oggi le nostre libertà vogliono essere tutte compresse all'interno di un algoritmo. Leggevo un'altra notizia, poi vi do subito la parola, leggevo un'altra notizia sempre su questi giornaloni di proprietà, dei grandi gruppi che fanno pure i carri armati, che fanno anche le mascherine, tutte queste robe qua, che praticamente adesso noi saremo spiati in tutto e per tutto, i nostri conti correnti, le nostre spese, verrà tutto incrociato per vedere se siamo degli ottimi contribuenti, hai capito? Perché il problema non sono le multinazionali, delle commerce, piuttosto che anche della ristorazione, che pagano le tasse negli altri paesi, anzi non le pagano per niente, quindi che vengono qui, noi gli diamo i soldi, oppure come i grandi gruppi YouTube, TikTok, tutta questa roba qua, che tu praticamente ci fai la pubblicità sola, paghi una multinazionale che sta in Irlanda, quindi in realtà tu stai facendo un'attività in Italia ma le tasse non le paghi, no? Ecco, non sono quelli il problema, il problema è il ristoratore, il problema piccolino, il problema è l'idraulico, il problema siamo noi criminali da strapazzo, non costoro, capite? Questo è un problema molto serio perché rientra proprio nella gestione delle nostre libertà e io vorrei ricordare, proprio perché ho aperto questo discorso a tutti, che l'Italia è un paese in avanzo primario da circa 25-30 anni, poi il professor Malvezzi ci potrà spiegare meglio, ma lo fa tutti i giorni, noi siamo in avanzo primario e cosa vuol dire? Vuol dire che noi versiamo allo Stato più tasse di quanto danaro lo Stato mette per i servizi ai cittadini, e lo facciamo da più di vent'anni, quindi l'Italia non è un popolo di evasori, l'Italia è un popolo anzi di persone per bene che pagano le tasse e che lavorano, che si sacrificano e che fanno avanzo primario, cioè significa che noi mettiamo più soldi di quelli che spendiamo per i cavoli nostri, dice ma il resto dove sta? Il resto sta in interessi speculativi, contratti dai nostri rappresentanti qualche decennio fa, un po' nelle tasche Tesoros, un po' nelle tasche di quello, un po' nelle tasche di quest'altro, un po' la faccenda dell'euro e tutto quanto, quindi noi ci troviamo a pagare interessi speculativi da sempre, ovvero abbiamo già restituito quel danaro che avevamo preso più ancora di più, quindi solo di interessi abbiamo già restituito i capitali, e continuiamo invece a pagare, ad avere debiti per i quali poi noi siamo costretti alle nostre restrizioni e ad essere trattati come delinquenti, come criminali, come evasori dai nostri banchieri al governo, e questa cosa non va bene, ma c'è stata, prima di darvi la parola però, se la regia è pronta, voglio riproporre per l'ennesima volta un'intervista rilasciata a un grande giornalista, forse uno dei più grandi, sicuramente un giornalista simbolo della comunicazione in Italia, che è un giornalista simbolo, che praticamente, ah ecco, è Alessandro che aveva il collegamento, era Alessandro sì sì, ma non senti. Ripeto, vorrei ascoltare le parole di un giornalista simbolo della comunicazione italiana, che ci spiegava perché, e che ci spiegava allora, cioè più di vent'anni fa, perché poi noi oggi ci troviamo in queste condizioni, quindi se la regia è pronta, vorrei ascoltare questa intervista, vediamo a chi, ma tanto l'avete capito tutti. Prego. Ma quale domani per l'Italia, secondo lei Montanelli? Devo proprio dirglielo. Provi a dirmelo. Per l'Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Io mi ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi, uno dei, un mio maestro e anche benefattore, che fu un grande giornalista, Ugo Ietti, il quale mi disse, ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri perché senza memoria. Io avevo 25-26 anni e l'ha presi per una boutade, è una battuta, un paradosso. Mi sono accorto che aveva assolutamente ragione. Questo è un paese che non ha mai la storia, ha una storia straordinaria, ma non la studia, non la sa, è un paese assolutamente ignaro di se stesso. Se tu mi dici cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo, per gli italiani, non per l'Italia, perché gli italiani sono i meglio qualificati a entrare in un calderone multinazionale perché non hanno resistenze nazionali. Intanto hanno dei mestieri in cui sono insuperabili. Noi in Europa saremo senza dubbio i migliori sarti, i migliori calzolai, i migliori direttori d'albergo, i migliori cuochi, non c'è il minimo dubbio. I mestieri, voglio dirlo senza intonazioni spregiative, nei mestieri servili, noi siamo imbattibili, assolutamente imbattibili, ma non lo siamo soltanto in quelli, l'individualità italiana si può benissimo affermare in tutti i campi anche scientifici, sono sicuro che gli scienziati italiani, i medici italiani, gli specialisti italiani, i chimici, i fisici italiani quando avranno a disposizione dei gabinetti europei veramente attrezzati, brilleranno. Gli italiani, l'Italia no, l'Italia non ci sarà, non c'è, perché gli italiani che vanno in Germania diventeranno tedeschi. Perché gli italiani sono anche molto elastici, molto elastici, molto elastici, capisci? Gli italiani non sono gli ebrei che da duemila anni difendono la loro entità, da duemila anni vengono sparpagliati in tutto il mondo, perseguitati e c'è, e loro rimangono ebrei. Gli italiani no, alla seconda generazione sono assimilati, dovunque vadano sono assimilati. Ma questo è un difetto? No, è un difetto ed è anche una virtù, è una qualità, voglio dire, per l'Italia non vedo un futuro, per gli italiani ne vedo uno brillante. Beh, io ragazzi direi che potremmo già cominciare a commentare, no? Iniziamo da chi è fuori. Alessandro, vogliamo commentare quello che ci ha detto Montanelli? Montanelli è sempre straordinario, ha detto delle cose che sono tutte condivisibili naturalmente, immensamente suggestive ma datate in questo senso. Nel senso che Montanelli dice queste cose a Elkan, che tra l'altro è una delle dinastie dei nostri persecutori, che erano vere ed erano totalmente vere circa 15 o 20 anni fa, quando credo siano state dette queste cose. Quando ancora, evidentemente, la competizione tra le nazioni nel quadro della globalizzazione rappresentava una qualità di difesa di coloro che hanno una rappresentanza nazionale. Il che peraltro è ancora in parte vero anche adesso, perché se voi pensate a Orban rispetto all'Ungheria, pensate alle misure che la Germania è riuscita a difendere e proteggere rispetto allo svendita che ne ha fatto Draghi. Se pensate alla difesa che persino il truce Erdogan fa degli interessi della Turchia e delle sue volontà ottomane, capite che effettivamente avere dei governi nazionali ancora un po' serve adesso. Però quella qualità di fetto che Montanelli dice degli italiani, oggi è quella che li rende i peggiori eversori del potere globalista che si sta delineando. E vi spiego perché. Vedete, oggi la piega che ha preso a Davos, la piega che ha preso il World Economic Forum, la piega che ha preso il mondo del New World Order, che avete visto rappresentato persino nelle luride dichiarazioni di quello Shalve, di quel vecchio omosessuale pelato a Davos, ha detto con maniera molto esplicita. Non è vero che il futuro è affidato al caso, al destino, agli eventi, alla creazione dei fatti, ma è legato ad una determinazione di potere in cui noi qui abbiamo tutto il potere, tutta l'autorevolezza necessaria per decidere come andrà la storia dell'umanità. Ha fatto una dichiarazione aperta, l'ha detto in maniera esplicita, in qualche modo riecheggiando Popper, che dice che il modo migliore per prevedere il futuro è quello di costruirlo. Lui l'ha detto non in modo liberale, ma in modo cinicamente neonazista, però è uguale. Allora, qual è il problema? Che oggi la piega che ha preso la globalizzazione è tale che non si accontenta più di avere degli stati sovranazionali che vengono determinati da dei poteri finanziari multilaterali e totalmente slegati dalla sovranità dei popoli, ma vuole prendere il controllo delle coscienze individuali. Questo è il salto che è avvenuto. Allora, proprio per i difetti di cui parlava Montanelli prima, la linea di difesa che gli italiani anarchici, anarchoiti, caotici, creativi, confusionari, servili, gaglioffi, geniali, ineffabili, genie sregolatezza direbbe Jasper, sono quelli che li rendono, proprio per le ragioni che diceva Montanelli, più difficilmente digeribili dal potere globalista. Funziona meglio con gli anglosassoni, funziona meglio con i tedeschi, funziona benissimo con gli orientali, con i cinesi, con i giapponesi, con i coreani, riesce a funzionare persino per i latinoamericani, ma con gli italiani non funziona. È per questo che io prevedo, e non ha funzionato con i russi, per la stessa ragione per cui non funziona con gli italiani, perché i russi e i italiani si assomigliano più di quanto voi non crediate. Non è necessario leggere Delitto e Castigo, i fratelli Caramazzo, l'idiota per capire che c'è nel pensiero di Dostoievski, di Tolstoi, di Turgheniev un'affinità profonda con la natura generativa dell'animo latino. E non è un caso che Roma, in tutto il pensiero panslavista, si è candidata ad essere la terza Roma, quella che non potrà più essere distrutta, dopo la distruzione di Roma e dopo la distruzione di Costantinopoli. Quindi io credo che davvero la resistenza della prima e della terza Roma, in un certo assi ideale, tra il grande pensiero ortodosso slavo, che ancora si delinea nella resistenza al new global order, e la genialità creativa degli italiani, potrà darci delle sorprese. Vi sembrerà strano che io faccia una dichiarazione così vagamente ottimistica e profetica, ma credo che sia profondamente vero. Ne faccio un esempio dicendo che un programma come questo, o un emittente come questa, con la capacità di dire a milioni di persone dei pensieri divergenti, irriducibili, inconfessabili, ineffabili, si direbbe, beh, non c'è in altri posti che qua, ve lo devo dire col cuore. Cioè, voi provate a sentire una radio francese, provate a sentire una radio tedesca, non parliamo di una americana, persino nel mondo quenon o trampista, e vedrete che il pensiero complesso che si sente respirare in un salotto come questo è un salto evolutivo. È veramente una trasmissione per Sapiens, Sapiens, Sapiens. E se il Sapiens, 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 come io penso, sta nascendo, sta nascendo innanzitutto in questa meravigliosa e tragica penisola buttata a ponte da domine 2 tra l'Europa e l'Africa.